Questo è un piccolo libro che ho voluto dedicare all'amore e ho voluto fare questo questo tributo proprio a questo sentimento cercando di raccontare quell'amore speciale, quello che incontri forse una volta sola nella vita, quello che riconosci anche ad occhi chiusi e fare questo libro così mi ha evocato tante emozioni e tanti ricordi anche dell'amore che ho vissuto e che vivo anch'io e che penso sia bello ogni tanto riportare agli occhi, parlarne perché l'amore vero quello che non si perde in superficialità ma che va dritto al cuore, dritto all'anima è uno dei sentimenti più nobili e importanti che a volte abbiamo la fortuna di incontrare e questo libro è dedicato proprio a quel sentimento, a quella sensazione di sentirsi persi e sentirsi magari anche ricambiati. a 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